buongiorno a tutti ragazzi benvenuti a questa lettura per i single del segno dei gemelli valida per il mese di novembre è una lettura generica quindi se non risuona esattamente con tutti voi andate a guardare o la lettura del vostro ascendente oppure la lettura della vostra luna se invece volete conoscere i prezzi delle letture private del coaching o dell'analisi karmica o se volete informazioni sulle ultime novità che ci sono per i corsi di tarologia inviatemi una mail la voci dagli angeli chiacciola gmail.com iniziamo subito con l'energia generale della persona alla quale voi siete interessati al momento che magari è interessata a voi o comunque con la persona con la quale potreste interagire nel mese di novembre in generale abbiamo la carta dell'imperatrice ovvero la carta dell'imperatrice parla di qualcuno che esteriormente ha tutto ciò che desidera l'unico punto debole di questa persona uomo o donna che sia è il rapporto di coppia la relazione di coppia perché si tratta di quelle tipiche persone che hanno difficoltà a star da sole quando sono sole non riescono a dare un reale forte valore alla propria vita quindi hanno sempre bisogno magari di avere qualcuno accanto o se non ce l'hanno comunque non si sentono particolarmente soddisfatte felici in questo caso si tratta anche di qualcuno a cui piace essere ammirato qualcuno a cui piace essere visto per quello che è qualcuno che ha bisogno di ammirazione magari di attenzioni qualcuno a cui piace molto ricevere attenzioni ecco diciamo che questa è una personalità che sfida un po' tiro un po' verso la personalità narcisistica però ecco essendo una lettura generica parlare di personalità narcisistica poco importa perché per qualcuno di voi potrebbe essere un narcisista borderline quindi pericoloso per qualcun altro di voi potrebbe essere un narcisismo naturale sano e quindi ecco nulla di grave diciamo però in ogni caso sì c'è questa impronta narcisistica un po' del mi sento figo mi sento figa e voglio essere guardato e c'è anche il ho difficoltà a star da solo bisogno di qualcuno accanto cosa teme questa persona un 5 di denari e cosa spera è un 6 di bastoni rovesciato molto molto particolare perché questa persona probabilmente ha anche una ferita da abbandono ovvero teme l'abbandono teme l'essere messa di lato lasciata abbandonata e quindi ciò che ciò che vedo è o qualcuno che ha paura di essere abbandonato e quindi fa strategie per non arrivarci per impedire che ciò accada oppure qualcuno che ha paura che per via di come dire ha paura di essere abbandonato perché l'altra persona ovvero voi potreste un attimino farvi i vostri conti potreste scegliere qualcun altro potreste rendervi conto che questa non è la persona giusta con cui iniziare qualcosa potreste spostare i vostri interessi da un'altra parte quindi ecco vi do entrambe le opzioni o l'abbandono e quindi le strategie per non farsi abbandonare con gli amici con le amiche quindi ecco tutti i complotti piccole piccole strategie che si organizzano e che si discutono fra amici oppure è una persona che ha paura che voi vi facciate i vostri conti e vi rendete conto che non è esattamente quella giusta per voi cosa spera al 6 di denari rovesciato? questa carta e questa carta sono un po' contraddittorie perché da un lato sembra da un lato sembra che questa persona spera di riuscire a fare un salto in qualche modo da una fase alla fase successiva di qualunque cosa si tratti non credo che si tratti tanto della relazione quanto di sé ovvero questa persona è molto concentrata e centrata su se stessa quindi questa carta si riferisce a qualcosa che questa persona vuole fare per sé stessa fare un po' un salto in avanti in generale nel frattempo vuole e desidera e spera che voi rimaniate bloccati dove siete che non vi muoviate perché chissà che può succedere se voi scappate allo stesso tempo un'altra cosa che arriva è che questa persona vorrebbe avere le cose un po' facili ovvero vorrebbe riuscire a superare degli ostacoli senza nemmeno guardarli questi ostacoli senza nemmeno doverli affrontare senza fare lo sforzo di affrontarli e quindi senza muoversi cosa nasconde un 7 di coppe rovesciato cosa fa un 9 di coppe rovesciato ciò che questa persona nasconde è che forse alcune idee che si era fatta stanno un attimino si stanno un attimino ridimensionando quindi ecco se si era fatta delle illusioni se aveva un po' idealizzato la situazione se aveva fatto se era stata troppo ottimista su certe cose o ingenua su certe cose ecco che adesso un attimino si sta ridimensionando e si sta rendendo conto che le cose non erano esattamente come le vedeva quindi ecco magari questa persona teme di avere non dico per tutti però per qualcuno di voi questa persona teme magari di avere creduto a false promesse o a progetti troppo utopistici insomma si è un po' lasciata andare ha fatto un po' di voli pindarici con la fantasia cercando senza fondamento magari cercando aspettandosi qualcosa per qualche motivo poi magari qualcuno di voi le ha create queste illusioni qualcun altro no però ecco questa persona se le era un po' fatte queste illusioni quindi ci è rimasta male ci è rimasta veramente male del fatto che ciò che credeva non sta andando come doveva non sta funzionando come doveva aspettative deluse ecco qua si tratta proprio di aspettative deluse 9 di coppe ovvero cosa questa persona realmente fa questa persona intanto non vuole affrontare certe conversazioni che potrebbero essere scomode sembra che questa persona stia scappando da qualcosa in un certo senso che sia se stessa o che sia qualcun altro che siano responsabilità o che siano persone ma questa persona sta scappando da qualcosa perché ha paura di qualcosa ha paura forse di una reazione di qualcuno o di se stesso della sua stessa reazione di fronte a certi eventi però ciò che appare comunque chiaro è che un qualcosa che a questa persona sembrava molto stabile in realtà lo era solo apparentemente ovvero anche lui o lei stessa se questa persona vi sembra stabile in realtà lo è solo apparentemente non lo è in profondità lo è solo su uno strato superficiale perché c'è anche una c'è anche un'incapacità di esprimere i propri bisogni cioè c'è un'incapacità di esprimersi di dire quello che si prova realmente c'è poca chiarezza o magari ci sono delle oscillazioni nell'abilità di esprimersi e di dialogare e quindi potrebbe anche avere degli atteggiamenti a volte che feriscono perché ecco di solito le persone che non riescono a parlare chiaramente e a dire momento dopo momento tutto quello che pensano poi sono le stesse persone che a un certo punto esplodono e quando esplodono tirano fuori dalla bocca la qualunque cosa quindi magari per qualcuno di voi potrebbe anche trattarsi appunto di questo di qualcuno che magari in certi momenti si lascia troppo andare senza controllarsi e in altri invece non riesce ad esprimersi diciamo comunque ecco aggiungo per qualcuno di voi c'è un po' di opportunismo nell'aria che sia da parte vostra o da parte dell'altro forse da parte dell'altro però c'è un po' di opportunismo dall'altro insomma c'è un po' di sregolatezza c'è qualcosa che non va esattamente c'è qualcosa che apparentemente magari va ma poi dentro se andiamo in profondità non quadra cosa dicono gli angeli? allora abbiamo l'arcangelo Raffaele l'arcangelo Raffaele che vi dice anche per voi la stessa carta che credo che sia uscita per non mi ricordo se per l'arieto o per il toro che vi dice comunque che voi avete la possibilità di realizzare più cose contemporaneamente quindi ecco anche per voi questa è una carta che in parte parla di relazioni e in parte si riferisce in generale alla vostra vita dice che voi avete l'abilità di realizzare molte cose allo stesso tempo che in realtà il consiglio migliore che potete seguire adesso è quello di seguire le vostre passioni e quindi la vostra creatività e di essere creativi nel manifestare appunto quello che volete e vi dice anche che potete fidarvi del vostro intuito potete fidarvi delle vostre sensazioni perché a quanto pare siete diciamo protetti energeticamente dai pianeti in questo momento ovvero sembra che ci sia un'energia favorevole per il vostro segno zodiacale in generale quindi ecco se volete più informazioni con una lettura privata ragazzi inviatemi una mail a voci dagliangeli.gmail.com altrimenti ci vediamo alla prossima